Don Antonio Germano, vice parroco della Basilica di Santa Croce, è arrivato finalmente il 18 maggio, si è ritornato in chiesa dopo un lungo periodo. Quali le emozioni? Sì, sono emozioni veramente indescrivibili, specialmente per una comunità che sempre si è fatta presente nella comunità, nella parrocchia, che sempre ha vissuto gli appuntamenti come proprio una famiglia. Il ritornare dopo un lungo tempo è stata un'emozione. E abbiamo raccolto tante lacrime, tanti pianti di persone che, ecco, veramente, con il cuore pieno di gioia, sono ritornati tra i banchi della nostra parrocchia. Siamo passati comunque dal celebrare l'Eucarestia, ecco, avendo delle panche vuote di fronte a noi, ma adesso invece queste panche hanno un volto, hanno un nome, e quindi ci sono delle persone che prendono parte alla nostra Eucaristia. Quale affluenza si è registrata? Un'affluenza, ecco, veramente, forse non pensavamo così tante persone, forse anche perché stiamo celebrando il mese di maggio, quindi, ecco, c'è sempre la devozione alla Madonna che lega i torresi, e quindi anche nelle celebrazioni c'è un bel numero di fedeli che prendono parte. Forse quella più preferita dal popolo è quella delle 7.30 del mattino, perché forse è l'ora più fresca, è la prima ora, è bello dare la prima ora al Signore, e poi forse anche per quanti poi dopo hanno la giornata di lavoro e quindi si dedicano alla preghiera prima di andare alle occupazioni quotidiane. E quindi anche a sera continua il numero dei fedeli, anche sulla pagina Facebook noi possiamo controllare quanti seguono, e quindi anche lì magari sono ancora gli anziani che hanno timore di scendere da casa, oppure anche le altre persone che amano comunque seguirci in TV, magari quelli dall'America, da tante altre parti del mondo che comunque restano in comunione con noi di preghiera. La comunità è stata vicino anche per le pratiche che avete adottato in chiesa, come i bigliettini, il pulire, l'alcol per le mani? Certo, devo dire che i fedeli collaborano tanto in questo, anche perché noi abbiamo messo un opposito foglietto verde per indicare il posto in cui potersi sedere. In questo veramente i fedeli collaborano, anche perché poi abbiamo l'aiuto di tanti volontari che sono collaboratori della nostra Basilica, che veramente fanno tanto, sono le nostre mani, sono le nostre gambe per aiutarci comunque in quest'opera anche faticosa, perché non ce lo possiamo nascondere. Comunque dopo ogni celebrazione, sanificare la Basilica che è così grande, poi l'accoglienza e tante altre cose, ecco veramente in questo i collaboratori stanno facendo tanto proprio per aiutarci in quest'opera bella, impegnativa. Come pensa sia che ha maiato l'aspetto spirituale della comunità parrocchiale? È una domanda molto importante. Forse a primo acchitto direi non tanto, non per tutti forse. Ci sta forse qualcuno che magari si è lasciato anche coinvolgere, no? La quarantena forse ha cambiato i cuori di alcuni, ma pensavo anche in più in positivo io, pensavo che un maggior numero potesse cambiare. Ecco, abbiamo registrato tanti desideri in questo tempo di quarantena, forse tutti questi desideri non bastava la Basilica per tutti questi desideri. Quindi forse pochi sono ritornati a ringraziare il Signore, anche per questo tempo che abbiamo vissuto, forse anche per le tante cose belle che abbiamo avuto in questo tempo. Forse mi viene in mente l'esempio dei dieci lebrosi. Solo uno è tornato a ringraziare dopo la guarigione. E qui si vede ancora la fede superficiale di un popolo che ha bisogno ancora di camminare. I giovani invece sempre vicino. I giovani sempre vicino. Ecco, grazie anche a queste possibili comunicazioni social, internet, facebook, whatsapp, veramente abbiamo avuto tanta compagnia, come loro anche per noi. E abbiamo avuto anche, grazie al loro ingegno, la possibilità di stare anche a contatto con i nostri bambini della catechesi, no? Con tante cose, tanti lavoretti che abbiamo dato, il cuore per la festa della mamma, oppure i bans per quanto riguarda il nostro oratorio Don Bosco. Tante cose. Ecco, loro veramente ci hanno stupiti. Ecco, ci hanno stupiti con il loro ingegno e con il loro modo di pensare, di andare avanti sempre, nonostante il loro stare a casa. Don Giosuè non ha lasciato il suo popolo da solo. Ogni mattina arrivava un messaggio di preghiera e di riflessione. Sì, sì, anche in questo. Abbiamo avuto anche molti riscontri positivi, specialmente dalle persone. Quasi a dire, forse questo messaggio ha fatto il giro dell'intera torre, ma forse anche fuori, agli estremi confini. Questo per dire che, ecco, la gente ha bisogno. La gente vuole la vicinanza dei pastori. E i pastori, ecco, veramente non si scoraggiano, ma fanno sentire sempre la loro vicinanza. Noi siamo un popolo in cammino, fedeli, battezzati, sacerdoti. Tutti siamo in cammino. E c'è bisogno di comunione, c'è bisogno di unità. E questo Vincenzo Romano ce lo indica sempre. La sua vicinanza al popolo, quando c'è stata l'eruzione del Vesuvio, quando c'è stata la calamità, sempre Vincenzo Romani in mezzo al popolo. E lui per noi è un esempio, lo dico sempre, specialmente per noi di Santa Croce, lui è un esempio. E noi siamo responsabili di quanto Vincenzo Romano ci ha trasmesso. Noi siamo responsabili perché siamo chiamati a viverlo. Più che a dirlo nelle omelie, più che a parlare, noi siamo chiamati a viverlo attraverso la nostra testimonianza di vita. Noi siamo chiamati a viverlo.